Salvatore Marletta, 47 anni, sarebbe legato alla cosca mafiosa di Dio di Paragonia, Orazio Salvatore Di Mauro, 54 anni, è ritenuto esponente di spicco del clan Laudani e legato alla famiglia Santa Paola. Marletta nel 2001 è stato arrestato per tentato, omicidio, lesioni personali e detenzione abusiva di armi e recentemente è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell'ambito dell'operazione denominata IDU, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Etnea, per associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti, estorsioni e lesioni aggravate. Nel 2007 era stato arrestato con altri tre indagati, compreso Febroni Oliva, appartenente alla famiglia mafiosa di Dio di Paragonia, per usura, estorsione e porto abusivo di armi. Incensurato fino al febbraio 2016, Di Mauro è rimasto coinvolto ed arrestato in diverse inchieste giudiziarie per estorsione aggravata, associazione mafiosa, omessi dichiarazione, versamento IVA, nonché per appropriazione in debita, ricettazione, traffico di influenze, intestazione, fittizia di beni e corruzione tra privati. Il Tribunale di Catania, nell'ambito di due diverse attività di indagine della Direzione Investigativa Antimafia, ha disposto la confisca dei patrimoni riconducibili ai due, stimati complessivamente in oltre 2 milioni di euro e composti da diversi rapporti bancari, autovetture, un'azienda operante nel settore agricolo, un fabbricato di pregio, 18 appezzamenti di terreno ubicati nei comuni di Palagonia e Ramacca e un'impresa individuale operante nel settore dell'arredamento. Grazie. 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 Grazie.